In un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in un serio incidente, Mauro Coruzzi, in arte platinette, noto opinionista televisivo, ha spaventato tutti cadendo sul palco di Piazza Colombo durante lo speciale di Nitalia Si, condotto da Marco Liorni a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo. Il maltempo, che ha colpito la città ligure da ieri sera, ha reso il palco particolarmente insidioso, tanto che lo stesso Liorni ha più volte messo in guardia gli ospiti sull'umidità. Nonostante le precauzioni, Coruzzi, nel tentativo di alzarsi dallo sgabello per avvicinarsi alla cantante Angelina Mango, è scivolato, precipitando a terra. Il pubblico e i telespettatori hanno trattenuto il fiato, ma il tempestivo intervento di Guillermo Mariotto, seduto accanto a lui, e l'immediata rassicurazione di Coruzzi hanno scongiurato il panico. Con un'impeccabile presenza di spirito, Coruzzi ha scelto di rimanere a terra e continuare il suo intervento, dimostrando che lo spettacolo deve andare avanti nonostante gli imprevisti. Il conduttore Marco Liorni e la cantante Angelina Mango hanno dimostrato solidarietà e professionalità, raggiungendo Coruzzi sul palco e continuandola diretta in un'atmosfera di improvvisata intimità che ha trasformato un incidente potenzialmente imbarazzante in un momento di genuina umanità. Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!